Muove i primi passi il comitato Nomuos di Modica, che sabato scorso ha partecipato al corteo regionale di protesta a Niscemi contro la nascitura stazione americana per le comunicazioni militari ad altissima frequenza all'interno della riserva niscemese di Sugherata, dichiarata fra l'altro sito di interesse comunitario. Stazione che sarà gestita dal Ministero della Difesa americano e che imbarba le dovute attenzioni ai pericoli che il campo elettromagnetico procura per l'uomo, la flora e la fauna, nonché alle inevitabili interferenze con i voli del vicino aeroporto di Comiso, ha ottenuto l'autorizzazione dei governi regionale e nazionale. Un corteo di protesta, quello di sabato, che per il calibro appunto regionale ambiva la partecipazione nei fatti dell'USA dei deputati regionali, oltre che di quelli nazionali ed europei, e di migliaia di partecipanti. Invece però ne ha contati solo circa 600. Solo quattro i sindaci presenti, tra cui quello niscemese Giovanni Di Martino, quello di Vittoria Giuseppe Nicosia, quello di Piazza Armerina Carmelo Nigrelli, quello di Caltagirone Francesco Pignataro. Scarsa la partecipazione al corteo degli stessi cittadini niscemesi, forse, spiega Gianni Puccio, esponente modicano Nomuos, troppo concentrati sulle elezioni amministrative. Chiaro invece l'impegno Nomuos del primo cittadino di Vittoria, Nicosia, che ha già indirizzato una missiva al Presidente della Repubblica e al Capo del Governo nazionale, per bloccare i lavori che dovrebbero concludersi entro il 2013, e che, cominciati già dalla scorsa estate, vedono realizzati a suggerata i basamenti per la collocazione delle antenne. Il sindaco di Niscemi, intanto alla luce della relazione sui pericoli, stilata dal docente del Politecnico di Torino, Zucchetti, non esclude il ricorso al TAR. Intanto il coordinamento dei comitati Nomuos tornerà a radunarsi per organizzare la tre giorni di protesta a fine aprile e interessare sulla questione anche i media nazionali. Grazie.